Ciao sono Dunno. Vi ho fatto aspettare un po'. Ma sono tornato con un Retrotech super figo. Una macchina fotografica che scatta foto in 3D. Una Nishika N8000. Questa è una macchina fotografica molto interessante. È stata prodotta nel 1989 da Nishika. È particolare perché riesce a fare foto in 3D, ma è analogica. Tramite quattro obiettivi montati tutti in fila, riesce ad imprimere sulla pellicola quattro foto affiancate, tutte nello stesso istante. I comandi sono molto semplici, non abbiamo la possibilità di scegliere diaframmi, messa a fuoco, o tempi di esposizione, ma ci sono solo tre modalità. Sole, nuvoloso, o interno. Ovviamente non ha schermi. Nella parte alta ci sono dei suggerimenti sulla distanza da tenere per sfruttare al meglio l'effetto 3D. La sensibilità che vi consiglio per la pellicola E200 Asa. Per ottenere foto correttamente esposte è quasi indispensabile utilizzare un flash, o essere in condizioni di luce molto forte, tipo una giornata di sole. Inizialmente per ottenere foto 3D bisognava inviare i rullini a dei laboratori che sviluppavano, e stampavano foto che potevano essere viste con occhiali 3D. Oggi grazie alla tecnologia possiamo invece farci sviluppare e digitalizzare i rullini normalmente. Poi con Photoshop si possono creare delle fighissime GIF 3D. Con quel gusto un po' vintage GIFs. Una figata. Anche esteticamente spacca. Un bel plasticone. Non la conoscevate vero? Ovvio, sono troppo avanti. Che chicche che vi porto. Fatemi sapere se vi piace, commentate, likeate e iscrivetevi. Ciao!